leggo poi una roba incredibile il tappo inamovibile da oggi è legge è più scomodo ma aiuta la natura si stima che la misura dimezzerà in poco tempo la quantità di plastica inquinante praticamente dalle bottigliette di plastica non sarà più possibile togliere il tappo e buttarlo che ne so per strada cosa che io non faccio mai perché butto sempre il tappo dove va buttato si stima che cosa dimezzerà la quantità di plastica inquinante ma chi se ne frega a parte che alla fine che cosa si farà si strapperà tutto insieme si strapperà tutto insieme e si butterà e si butterà lo stesso per chi lo vuole buttare le solite stronzate dell'Europa che ci vogliono rompere i coglioni con questa scomodità di avere questo tappo io l'ho provato questo tappo che praticamente tu vuoi bere ma ti arriva il tappo addosso sull'albero e non ti fa bere un cazzo vai a cagare vai ecco vai a cagare quelli che se lo sono inventato da Roma David Parenzo buonasera 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 eccoci qua io l'unico perseguitato che conosco eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua